Allora, benvenuto Luigi, allora poi parleremo con te ovviamente anche di commento da uomo di sinistra, si può dire, sì? Sì. Si può dire, diciamo. Volendo si può dire. Volendo si può dire, noi vogliamo. A quanto è accaduto questa settimana, ma comincerai la nostra conversazione da dove abbiamo finito quella con Pierluigi Pardo, vale a dire ricordando Federico Aldrovandi, il suo caso, i 15 anni e una vicenda di cui tutti sei occupato per molto tempo. Quali sono le considerazioni che vuoi fare appunto a margine di questa ricorrenza? È una vicenda importantissima quella di Federico Aldrovandi. Ricordiamola ancora, colpito a morte da quattro poliziotti in una piazza di Ferrara. È importantissima non solo per l'immane tragedia che è costituito per i familiari, per gli amici, per la città, ma perché ha offerto una lezione molto significativa. Alla fine di quel 2005, la vicenda giudiziaria di Federico Aldrovandi stava per essere completamente cancellata, consegnata all'oblio, se così non è andato, si deve in particolare alla mamma di Federico, Patrizia Moretti, al padre di Federico e agli amici di Federico, che da soli hanno costritto la magistratura a riaprire il caso. E aggiungo che l'hanno fatto contro una sostanziale inerzia, spesso ostilità, da parte delle autorità di magistratura e di questura. Poi c'è stata la combinazione di alcuni fattori imprevedibili, la testimonianza di un prete, di una donna straniera e la tenacia dei familiari di Patrizia e di suo marito che finalmente hanno costretto, ma attraverso una procedura che davvero andrebbe ricostruita passo passo, la prima manifestazione fatta in piazza era costituita, dice sempre Patrizia, da 6-7 persone con 6-7 cartelli. Nasce tutto da qui e tutto questo accompagna una vicenda giudiziaria, politica, che infine porta a quel risultato fondamentale, la condanna in via definitiva dei quattro poliziotti. E' una lezione importantissima perché dimostra che all'ingiustizia è possibile reagire e spesso a farlo sono i cittadini considerati inermi, coloro che provano sul proprio corpo, nel proprio cuore, il dolore immenso, ma da questo dolore immenso trovano l'energia per fare di quel lutto una grande questione pubblica.